Mi dispiace se cade questo governo? Tanto è uguale che io risa, che è ministra e minestra. Ma non è un altro mascello. Niente denari, se sono venuti a Gesù Cristo. Senta, ma Pietro, la crisi lei l'ha capita perché l'anno è aperta. Ma la crisi... Non so per quale motivo è stata aperta, però non è che ci rimettono loro. Siamo sempre noi popoli che ci rimettiamo. Renzi a tratti è odioso, però è stato un animale politico pazzesco. Rimane purtroppo il migliore politico che c'è in Italia, a livello tattico-strategico. C'è stata una perdita di tempo su determinate decisioni e quindi a mio parere Renzi ha forzato la mano. A mio parere l'ha forzata troppo, però in realtà non era il periodo giusto per fare una cosa del genere. E quindi vediamo. Credo che sia assolutamente sbagliato, in un momento completamente sbagliato e anche abbastanza pretestuosa. Per cui c'è da augurarsi, senza necessariamente essere dei fan dell'attuale governo, che la crisi si risolva e che l'Italia possa avere ancora un minimo di stabilità per affrontare l'epidemia. Io sono in cassa integrazione da ottobre, ci sono stata anche da marzo. Noi siamo a pezzi, noi siamo del gioco legale, abbiamo una cassa integrazione misera che è il 40% del nostro stipendio. Io voglio solo tornare a lavorare, poi quello che succede al governo, che vinca il migliore. Un po' siamo stufi, qualsiasi cosa venga a questo punto va bene, non ci interessa più destra, sinistra, basta che venga qualcosa. Che devo dire.